Ho rischiato di ribaltarmi col fuoristrada Qualche giorno fa mi sono vestito da caccia e con un mezzo di trasporto molto speciale sono partito all'alba insieme ai miei parenti di Foligno Tengo a precisare che in quattro non ne facciamo uno sano e ogni volta ne capita una Comunque siamo partiti per un giro tranquillo per raccogliere qualche fungo nel bosco scattare belle fotografie e avvistare un po' di salvagina Oltre che divertirci col fuoristrada e rischiare il ribaltamento Dio solo sa quanto mi sono divertito Seguimi per altre avventure